Eccoci qui nel primo video di riepilogo del 2021. Il primo mese gennaio è già passato. Come vuole il tempo quando ci si diverte, eh? Questo mese è stato folle, ho fatto investimenti pazzi e ci sono anche delle novità sia belle che brutte. Like al video e iniziamo subito. Parto con una novità negativa dell'ultimo secondo riguardante DeGiro. Ho scoperto nel weekend, grazie ad alcuni ragazzi che mi hanno scritto per mail e per messaggio privato, che DeGiro non permette più le operazioni di compravendita di Realty Income. E al momento le uniche indicazioni che DeGiro ha fornito è che il titolo è non trattabile per problemi di fiscalità. Il punto è che già in precedenza avevo qualche dubbio sulla fiscalità dei dividendi ricevuti da Realty Income. Perché la normativa attuale prevede che per i rate europei regolamentati in un certo modo, il dividendo venga tassato al 26% come reddito di capitale. Mentre per i rate che non sono regolamentati in quella maniera, la normativa prevede di andare a prendere quei dividendi ottenuti da rate USA in questo caso e aggiungerli all'imponibile IRPEF e poi tassarlo secondo le aliquote IRPEF. In questo senso credo che si andrà in quella direzione, ma non ho alcuna certezza e in questo momento DeGiro è molto vago nelle proprie comunicazioni. Cosa succederà in futuro? Beh, io vedo alcuni casi possibili e uno di questi veramente poco piacevole. Sto parlando del caso in cui DeGiro obblighi alla vendita di questi titoli al prezzo corrente. In questo momento però l'unica cosa certa è che non si possono né acquistare né vendere azioni di Realty Income e molto probabilmente anche azioni di altri rate USA. Vi parlo adesso di una anticipazione di quello che sarà il mese di febbraio, parlerò tantissimo del mondo delle criptovalute. Questo perché a gennaio mi avete praticamente inondato di richieste. E così ho deciso di analizzare alcune delle piattaforme e iniziare a investire poco capitale in realtà al momento in questo mondo. Voglio parlarvi quindi dei vantaggi delle piattaforme principali attraverso le quali possiamo investire in criptovalute, dei benefici che possiamo ottenere possedendo criptovalute e in generale tutte le informazioni relative a questa categoria di asset. Ho inoltre ordinato una nuova carta di Crypto.com che potete ordinare anche voi utilizzando il link che vi lascio in descrizione. Comunque vi porterò le principali novità sicuramente nel mese di febbraio. Ad esempio sapete che cos'è uno stake cripto? Molto probabilmente chi è esperto di quel mondo lo saprà sicuramente. Fare uno stake di cripto significa bloccare delle criptovalute per un certo periodo di tempo e ottenere delle ricompense frequenti una volta terminato il vincolo temporale da quello stake. Ho iniziato vari test anche di questo tipo e vi porterò sicuramente in futuro i risultati dei miei test. Parlando di azionario non si può non parlare della vicenda che ha monopolizzato l'attenzione nel mese di gennaio 2021. Sto parlando della crescita enorme di GameStop. È probabile che praticamente tutti coloro che guarderanno questo video siano già a conoscenza delle vicende che vi riassumo brevemente. Un gruppo, non sono sicuro che si chiami così, Reddit WallStreetBets, si è messo d'accordo, i loro utenti si sono accordati per acquistare in blocco azioni di GameStop. Il ticker è GME che da inizio gennaio al 25 di gennaio, nel giro di 25 giorni, ha raggiunto il prezzo di 358 partendo da 17 dollari per azione. Questo ha provocato un forte innazionamento del prezzo e ha portato a forti perdite gli hedge fund che avevano delle posizioni short sulle azioni di GameStop, cioè scommettevano al ribasso. Facendo i calcoli, questo significa un rendimento del 2000%, cioè un 20x, nel giro di 25 giorni. E un rendimento annualizzato del 30.000%. Siete molto confusi? Vi capisco, non è un fenomeno molto semplice da comprendere. E comunque, come ve l'ho spiegato io, è veramente semplificato. La mia valutazione è questa. Se avevate già in portafoglio delle azioni di GameStop prima del 2021, non siete improvvisamente diventati i nuovi lupi di Wall Street. Avete avuto la proverbiale botta di culo. Se non siete entrati in GameStop in questo periodo, nessun problema. Questi fenomeni sono fenomeni altamente speculativi. C'è un rischio enorme del nostro capitale investendo in GameStop in questo momento. Vediamo delle fluttuazioni di prezzo del 60% in un giorno. Cose pazzesche. Investendo 1000€ nelle azioni di GameStop, il giorno dopo potremo avere 400€. Io da queste vicende preferisco stare fuori completamente. Ci sarà sicuramente chi ha guadagnato tantissimo. Ma al pari di chi ha guadagnato, ci sarà sicuramente chi ha perso tantissimo. Ho ottenuto un dividendo unico questo mese dato da Realty Income, che in realtà è aumentato rispetto al 2020. Ed è diventato pari a 0,2346 dollari per azione. Per un totale complessivo di 9,57 dollari totali. A questo punto però sono già titolare anche del dividendo che verrà distribuito a metà febbraio, ma non so quello che accadrà a questi dividendi e alle azioni di Realty Income su DeGiro. Staremo a vedere e sicuramente vi porterò delle novità appena ne sarò a conoscenza. Infine per l'azionario ho acquistato altre quote di ETF globale azionario dedicato al mio pieno di accumulo per un valore di circa 500 euro. E sto proseguendo secondo la tabella di marcia mensile. Al momento sono a più 6,8, circa 200 euro. Meglio di niente. Adesso un piccolo intermezzo pubblicitario. Vi voglio ringraziare tantissimo dei 45.000 iscritti. Questo canale sta crescendo piano piano ma in maniera costante e sono veramente felice di questa cosa. Mi state supportando tantissimo in questi mesi. E appena questo canale raggiungerai 50.000 iscritti farò un piccolo contest. Ma ve ne parlerò quando sarà il momento. Se avete notato negli ultimi tempi sto pubblicando leggermente di meno rispetto al mio solito pubblicare 3 video alla settimana. In realtà questo è dato dai numerosi impegni che ho fuori dal canale. Mi sto dedicando tantissimo allo studio di nuovi investimenti sia per il canale in realtà ma soprattutto al di fuori del canale. Sto parlando del progetto che avevo anticipato mesi fa ma sta procedendo veramente a rilento della costruzione del mio blog personale leonardopina.com e voglio completarlo nei prossimi mesi e renderlo pubblico. Al momento è presente solamente una piccola bozza online. Non c'è nulla in pratica. Soprattutto però mi sto dedicando alle aste immobiliari, alla ricerca di un immobile come investimento. E andando in quella direzione ho bisogno di tantissimo tempo della mia giornata da dedicare alla ricerca di finanziatori per il mio progetto, alla ricerca di immobili adatti al mio investimento. Insomma fare delle analisi su questi tipi di investimento che sono capital intensive, cioè richiedono tanto capitale, sono molto impegnative in termini di tempo e energie. E questo sottrae del tempo disponibile alla produzione di nuovi video. Comunque queste sono delle piccole anticipazioni di quello che forse sarà nei prossimi mesi. Tornando a noi, crowdlending. Piccole ma grandi, novità. Le enormi novità riguardano Soeasy, piattaforma di peer-to-peer lending italiana della quale ho fatto una recensione questo mese, pochi giorni fa in realtà, e che potete trovare nel mio canale. Ho investito ulteriori 2.000 euro nella piattaforma, portando a un totale complessivo prestato tramite Soeasy pari a 3.000 euro. 1.600 euro li ho investiti utilizzando la garanzia di rendimento, con un rendimento del 4,3% lordo. Mentre la restante parte, i restanti 400 euro, li ho investiti con rischio 1. Reputo il rendimento di garanzia di rendimento piuttosto buono, del 4,4% lordo, quindi per me niente male, non ho pretesa di fare rendimenti a doppia cifra ogni anno. Perché ho investito in Soeasy? Primo in un'ottica di ribilanciamento del mio portafoglio crowdlending. Al momento Soeasy possiede la posizione principale nel mio portafoglio lending, perché credo che sia una piattaforma con un buon rendimento e con un rischio contenuto. In più, il mio rimborso delle tasse al momento scade nel 2.163. Vabbè, non credo che vedrò mai la fine di questo rimborso. Un altro motivo è che è aumentato il mio capitale totale, e perciò ho deciso di investire ulteriore capitale anche nel crowdlending, non aumentando di troppo la percentuale di lending nel mio portafoglio complessivo, io ho investito nella piattaforma che ritengo più solida. Al momento inoltre la liquidità su Soeasy sembra abbastanza buona, perché se noi vendiamo le nostre quote sul secondario di Soeasy gratuitamente, ci saranno sicuramente investitori in questo periodo che vogliono quei prestiti e li acquisteranno praticamente subito. In altri periodi probabilmente nessuno comprerebbe quelle quote, ma in questo momento la liquidità su Soeasy è alta. Nei prossimi mesi, quindi con un aumentato capitale investito, mi aspetto di ottenere dai 12 ai 14 euro netti al mese. Un buon capitale, considerando che provengono esclusivamente dal mio investimento in Soeasy. Per quanto riguarda il lending ho ottenuto 3,93€ da Soeasy, 17,92€ da Criptalia per questo mese, e adesso ve ne parlo, 13,21€ da Bondora e 3,26€ da Mintos. In totale ho ottenuto 47,33€, quasi 50€, che come passive income totale per gennaio diventano, includendo i dividendi, 53€ circa. Molto probabilmente vi siete accorti che a gennaio ho ottenuto con Criptalia molti più interessi rispetto alle altre piattaforme. Vedo due principali cause di questo. Il primo è che ho investito in numerosi progetti, anche a dicembre, in Criptalia. Il capitale investito in questo momento è circa 2.500€. Ora ho attivi 15 progetti, più i tre nuovi che ho attivato a gennaio e che inizieranno a produrre interessi a febbraio. Il rendimento di questi progetti è molto elevato, dal 7 al 9%. Questo comporta anche un elevato rischio di default di quei prestiti e quindi perdita dei miei soldi. L'altro motivo invece è la promo taxback, che mi rimborsa il 26% trattenuto da Criptalia. E ancora una volta ricordo che Criptalia fa da sostituto d'imposta, ma quel 26% non è l'imposta totale che andremo a pagare sugli interessi che subiranno un'imposta secondo gli scaglioni IRPEF. In ogni caso la mia promo taxback scadrà fra due mesi, mentre se utilizzate il link che vi lascio in descrizione per iscrivervi a Criptalia potete sfruttare la ancora attiva oggi promo taxback che vi rimborserà il 26% degli interessi trattenuti da Criptalia. Questi 18€ che ho ottenuto a gennaio sono dovuti quindi anche alla promo taxback, mentre quando la promo taxback si esaurirà e vi ricordo che dura 12 mesi e si esaurirà a marzo nel mio caso otterrò circa 13€ ogni mese. Comunque una cifra niente male. Per quanto riguarda il portafoglio crowdlending Suisi ne compone il 27%, Criptalia il 22%, Bondore il 19%, prestiamoci il 14% e Crowdestate il 5%. Per quanto riguarda il mio portafoglio totale in questo momento ho 3.000€ investiti nel piano di accumulo, 6.500€ investiti in equity startup, private equity, 17.400€ investiti in azioni o ETF, 11.100€ investiti nel crowdlending, 3.500€ investiti in cripto, ma ve ne parlerò in futuro, e 18,5.000€ di liquidità, per un totale di circa 57.300€. Ecco i miei investimenti e alcuni dei miei progetti futuri. In realtà ho deciso che da questo momento in avanti, senza alcun dubbio, non mostrerò più la mia liquidità all'interno del mio portafoglio. Nonostante questa rappresenti una buona porzione del capitale, non è mai corretta al 100%, sia perché al momento non include il fondo di emergenza, sia perché escludo sempre una fetta di liquidità dedicata ad altri progetti. Perciò ho deciso di mostrare come mio portafoglio di investimento solamente il capitale investito dal prossimo episodio in avanti. Comunque non credo cambi molto per chi segue questi video. Vi mostrerò comunque uno o più miei bilanci tra qualche tempo. Per il resto questo video finisce qui, spero veramente che vi sia piaciuto e vi sia stato utile, e se è così lasciate un bel like per supportare il canale, e se siete nuovi iscrivetevi e attivate la campana di notifica per non perdervi i miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.